E' giunta alla 32esima edizione la storica fiera del tartufo nero di San Pietro Avellana che ha celebrato anche quest'anno il pregiato fungo simbolo del paese dell'Alto Molise. Un percorso itinerante organizzato dal comune della Proloco Ad Volana che ha consentito di vivere al meglio una delle manifestazioni di punta dell'estate molisana in cui i curiosi, appassionati e buongustai hanno potuto visitare gli stand dei produttori di tartufo e di prodotti tipici locali ma anche prendere parte a degustazioni con piatti appetitosi per tutti i gusti. La fiera del tartufo nero resta dunque un modo originale per raccontare la perla della gastronomia molisana e la terra da qui nasce con i suoi aspetti culturali, agricoli, ambientali, gastronomici e turistici. 32esima edizione della fiera del tartufo nero, un appuntamento molto importante, un appuntamento molto sentito a livello regionale e interregionale, un appuntamento molto voluto da noi soprattutto in questo periodo, ripeto perché comunque sia per noi è importantissimo dare una risposta al territorio in termini turistici, in termini di mercato appunto, per dare anche un sostegno concreto alle imprese in termini di creazione, di un momento di vendita, di compravendita e di conoscenza. Ho importanti novità perché questo è l'anno di riconoscimento UNESCO di cerca e cavatura del tartufo quindi quest'anno inauguriamo un murales dedicato al tartufo che sarà la nostra cartolina di ingresso nel paese e inauguriamo soprattutto il primo museo del tartufo presente in Molise, uno dei primissimi in Italia un luogo di cultura legato al museo dell'Alto Molise che sarà permanente ed è dedicato al re della tavola. Il museo del tartufo inaugurato proprio in occasione della fiera ma visitabile tutto l'anno è un vero e proprio percorso multisensoriale ed interattivo. La prima esposizione è dedicata al pregiato fungo e Molise ed uno dei rari musei istituzionali d'Italia che celebrano il gioiello della terra con la sua storia, i rituali, gli odori, i sapori e le esperienze. Una giornata piena di iniziative per la 32esima fiera del tartufo l'occasione per i visitatori anche per esplorare il borgo, le chiese e partecipare alle visite guidate del museo dell'Alto Molise con la nuova sezione Autunno 43.